Ha reagito con violenza al controllo di un agente provocandogli lesioni e opponendo resistenza all'arresto. Un pluri pregiudicato di 31 anni è stato sorpreso dalla polizia nel centro storico di Barletta durante l'orario in cui vige il coprifuoco. Gli agenti erano intervenuti insieme ai militari della Guardia di Finanza per bloccare un gruppo di persone che alla vista delle forze dell'ordine ha cercato di guadagnare la fuga nel tentativo di evitare le sanzioni previste per la violazione delle normative anti-covid. Ma ogni strada della zona era stata presidiata e nessuno è riuscito a sottrarsi all'intervento della polizia. Per il 31enne pregiudicato è scattato anche l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I controlli delle forze dell'ordine sono poi proseguiti in tarda serata in un attico dove era in corso una festa privata con musica ad alto volume. Gli agenti hanno interrotto il festino con l'ausilio della polizia locale e identificato tutti i presenti. 12 ragazzi, compresi alcuni minorenni, sono stati sanzionati per violazione delle disposizioni anticontagio.